Pillole di non solo suoni, la storia della musica passa da noi. La primavera è la stagione della rinascita della ripartenza e questa voglia di aria nuova evidentemente non esclude il mondo musicale, anzi in questa puntata speciale vorremmo proporvi qualche novità per concludere poi con un super classico rivisto. Iniziamo allora dal primo artista internazionale che ha annunciato l'uscita di un nuovo lavoro, ora disponibile fin dalla fine del 2021. Si tratta di Michael Bublé, superstar, vincitore di molteplici Grammy Awards che ha realizzato aier il suo undicesimo album in studio con uscita il 25 marzo, anticipato dal singolo I'll Never Not Love You, on air dal 28 di gennaio. Il disco arriva a tre anni di distanza da An Evening with Michael Bublé Tour, ossia il tour mondiale durato due anni, sempre tutto sold out e dopo il grande successo del decimo anniversario del suo album Christmas. Tra gli elementi di spicco del nuovo disco ci sono un duetto con Willie Nelson sul suo brano Crazy e una versione appassionata di Bublé del brano My Valentine di Paul McCartney, il classico di Bob Dylan Make You Feel My Love e tre brani originali scritti da Bublé, incluso il nuovo singolo appunto citato in precedenza, oltre a diverse reinterpretazioni. E invece un remix quello di Anastasia che ha deciso di festeggiare il 22esimo anniversario dell'uscita del brano I'm Hot I Love con una speciale versione in collaborazione con Carsten e Nicholas Eilg. Era il 2000 infatti quando la regina dello Sproc aveva pubblicato I'm Hot I Love dando inizio a quella carriera che dopo due decenni l'avrebbe ancora vista tra le voci più riconoscibili e amate a livello mondiale. Poco fa la cantante classe 1968 dunque distribuito la versione remix del brano entusiasmando immediatamente il pubblico. Nel frattempo Anastasia ha annunciato anche la tournée I'm Hot Lockdown Tour che a settembre la porterà anche in Italia con ben cinque tappe e tra queste quelle nelle città di Milano, Roma, Catania, Firenze e Bassano del Grappa. E allora torniamo proprio in Italia dove per la prima volta in coppia Antonello Venditti e Francesco De Gregori si preparano a portare la vera anima del cantautorato italiano in un ricco tour estivo lungo la penisola. Si chiama infatti Venditti e De Gregori Tour e partirà il prossimo 18 giugno con una data speciale allo stadio olimpico per arrivare poi fino all'arena di Verona e al velodromo di Palermo come vi racconteremo tra poco. Con un post pubblicato su Instagram e su tutti gli altri profili ufficiali dei due pluri premiati cantautori italiani Venditti e De Gregori hanno quindi annunciato il calendario completo incluse le nuove date del tour che dal prossimo 7 luglio li vedrà girare in musica e in compagnia in tutta la penisola. La voglia è proprio quella di tornare finalmente ai concerti dal vivo dopo il lungo lunghissimo stop imposto a pubblico e maestranze varie dello spettacolo a causa della pandemia covid. È proprio da questa voglia di garantire a quante più persone possibili di godere di una buona musica e in sicurezza che i due artisti hanno scelto di aggiungere al già ricco tour estivo ben tre nuove date che si terranno all'arena di Verona a Palma Nova e appunto al velodromo di Palermo ma non prima di pubblicare una nuova versione di due dei loro cavalli di battaglia rispettivamente generale ricordati di me. Noi per oggi dunque ci fermiamo qui lasciando spazio proprio a generale di Francesco De Gregori.